Buonasera mister, Claudio Zuliani, Juventus TV, buon anno innanzitutto. Era la prima partita dopo la piccola sosta, quindi con tutte le difficoltà del caso. Lei aveva detto che non voleva irripetersi dell'ultima partita. Volevo sapere se stasera la gara e la squadra l'hanno soddisfatta a pieno. Sì, sì, non siamo partiti benissimo, proviamo ancora delle scorie dell'ultima gara giocata contro la Fiorentina, quindi eravamo un po' impauriti, non eravamo bene attenti su quello che dovevamo fare. Poi una volta sbloccato il risultato siamo andati sempre meglio. Buonasera mister Marco Vendizi, signora Mia Calciognosa. Senta, ci saranno degli impegni molto molto importanti per la testa del campionato. La Juve è chiamata a vincere gli scontri diretti. Lei pensa obiettivamente che ci siano i margini per poter riuscire in questo. E poi le volevo chiedere se Chiesa è questa la posizione più congeniale in base alle caratteristiche del giocatore. Grazie. Ma noi giochiamo per vincere, siamo qua per quello e quindi non vedo altro risultato. Quindi ci saranno tanti scontri diretti, ma per noi è importante giocare e vincere partita dopo partita e poi tra tre mesi vedremo a che punto saremo. La posizione di Chiesa è sempre la stessa, gioca da esterno ma poi dipende dalle partite, dalle situazioni di gioco dove ha più spazio per poter star largo o ha più spazio per poter attaccare la profondità. Buonasera mister Luca Cavallero, Tienvo Redio. La mia domanda specifica riguarda Di Bala. Le chiedo un giudizio riguardo alla sua prestazione, come lo trova fisicamente? Perché comunque lui ha avuto la preparazione condizionata, perché si è fortunato con Lione, quindi il tutto è condizionato da quello. Le chiedo anche se tatticamente lo considero un'alternativa a Morato oppure se altre previsioni tattiche per lui. Grazie. Ma stasera ha fatto una buona partita, una delle migliori da quando è iniziato la stagione. Ha lavorato bene questa settimana, infatti questa sera aveva la gamba più brillante, con molta più forza nelle gambe e si è visto anche fino alla fine quando è riuscito a scattare per trovare il gol. Ma la trovo è un attaccante come lo è Morato, ma hanno caratteristiche diverse, quindi dipendentemente da chi gioca possiamo avere delle soluzioni diverse. Certo, quando gioca Paolo sappiamo che la profondità e la ricerca di uomini in area possiamo trovarla con altri giocatori, mentre quando abbiamo Morata il gioco diventa diverso. Buonasera, Alessandro Antinelli, Rai Sport. Due cose rapidissime. La prima, se quello che hai visto stasera ti fa stare sereno per la partita di mercoledì, completamente tranquillo, e se pensi che la società ti regali un attaccante sul mercato. Grazie. Ma sereni non si è mai, bisogna sempre cercare di migliorare. Ci sono stati fatti degli errori che andranno analizzati, però siamo qua per questo, per migliorarci, per cercare di farne sempre meno. Per quanto riguarda invece l'attaccante abbiamo parlato con la società, poi nei prossimi giorni vedremo cosa fare. Buonasera, mister Nicola Gallo, Gruppo Mediapason. Proprio riguardo agli attaccanti le volevo chiedere di Morata, se c'è qualche possibilità di rivederlo già fra tre giorni o quando. E poi volevo chiederle anche sul campionato, mi sembra che i valori si stiano delineando e quelli davanti abbiano cambiato marcia. E quindi adesso c'è decisamente un gruppo di cinque, sei squadre che sta prendendo un pochettino a largo. Sì, no, le squadre davanti si sapevano che sarebbero state queste, quindi stanno facendo bene il loro cammino, stanno vincendo le partite, però non dobbiamo guardare a quelle che stanno davanti, bisogna guardare partita o partita, pensare a vincere le nostre, poi in futuro, nei prossimi mesi, vedremo, come ho detto prima, a che punto saremo. Per quanto riguarda Di Balla e Morata, adesso ho avuto un risentimento, l'altro ieri in allenamento, e valuteremo nei prossimi giorni come starà. Andrea, buonasera, sono Paolo Tomaseri, del Corriere della Sera. Volevo chiederti se ti è seccato non avere per due partite Rabiot, invece che per una, e se la tua prima scelta è Giroud, per il mercato di gennaio eventualmente. Sì, no, Rabiot è un giocatore importante per noi, è stato un peccato non averlo, sia nella partita di fine anno con la Fiorentina, che stasera, però sono le regole del calcio, e quindi vanno rispettate. Per l'attaccante abbiamo dei nomi sulla lista, e poi vedremo quale sarà la possibilità e la necessità per il nostro gruppo. Se uno guarda il risultato, sembra una partita arrendevole dell'Udinese, poi ci sono state anche altre cose, anche le due traverse, però gli errori individuali hanno inciso troppo. Questa è una partita nella quale l'allenatore torna a casa molto arrabbiato per gli errori individuali della sua squadra. Sì, perché ci siamo fatti tre gol da soli, e perché abbiamo sbagliato delle cose che la mia squadra normalmente non sbaglia, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista delle idee condivise, delle letture durante la partita. Questo è il rammarico. Prossima domanda. Buonasera, mister. Luca Cavallero, TNV Radio. Volevo chiederle, è un Udinese che ancora una volta si ritaglia le sue occasioni, crea tanto ma capitalizza poco. Le chiedo, come intende risolvere questo tipo di problematiche? se si aspetta qualcosa dal mercato e soprattutto come giudica la prestazione di Molina, che è entrato con il Pio giusto e ha anche trovato l'assist. Grazie. A Molina è entrato molto bene, devo dire, come gli capita quasi sempre, peraltro. È un ragazzo di prospettiva e che dandogli il giusto tempo credo darà soddisfazioni a se stesso e al club. Sbagliamo tanto sotto porta, non riusciamo a concretizzare neanche lontanamente quello che produciamo, ma non solo in termini di occasioni, proprio anche in termini di presupposti per le occasioni. Vabbè, oggi ci siamo mancati dove normalmente siamo più solidi, concediamo pochissimo, sbagliamo molto meno. C'è da aggiungere a questo risultato negativo, a una prestazione che comunque non mi soddisfa da tanti punti di vista, c'è da aggiungere purtroppo che c'è la sensazione che Pussetto abbia un infortunio di una certa entità. Grazie a tutti.